Forse è la partita più difficile dall'inizio del nuovo anno per la Paganese di Grassadonia. La trasferta di Agrigento contro l'Akragas mette di fronte alla Paganese una squadra assetata di punti perché vuole definitivamente allontanarsi dalla zona a rischio della classifica. A qualche punto di vantaggio sulla soglia play-out la squadra siciliana che però è stata deferita per il caso calcio scommesse. Anche se la società ha parlato di fraintendimento non si può rischiare un'eventuale penalizzazione che potrebbe inguaiare la posizione dei bianco-azzurri. E allora la Paganese troverà una formazione che vuole i tre punti e che in casa ne ha vinte quattro perdendone sette, mai un pareggio. E l'Akragas va meglio in trasferta dove ha ottenuto una vittoria in più rispetto alle sfide casalinghe. Paganese che dovrà fare a meno di carcione, magri e schiavino. Mister Grassadonia ne ha convocati venti di giocatori, probabile che possa esserci l'esordio di qualche ragazzo arrivato a gennaio e che finora non ha avuto lo spazio che si aspettava. Passiamo alla Serie D. La Cavese attende la visita della Sarnese, derby che vale molto in chiave classifica. All'andata i metelliani allo squitieri non andarono oltre il pari per 1-1. Ma a dire il vero, conquistare i tre punti a Sarno è difficile per tutti. Finora, in questa stagione, non ci ha vinto nessuno. Di contro, tra le mura amiche del Lamberti, gli aquilotti hanno steccato in alcuni momenti della stagione. Quelli importanti quando bisognava dare la scossa all'avversario. E parliamo dei pareggi con Scordia ed Agropoli. Quest'ultima formazione dovrà cercare di frenare la marcia della Frattese, che invece in casa ha fatto un plan finora. Tutto passa dunque dalle sfide casalinghe. Cavese contro Sarnese, Frattese che ospita l'Agropoli, Siracusa che ha il derby interno col noto. La carta direbbe tre successi su tre, ma in questo gironei bisogna stare sempre attenti alle sorprese. Grazie. Grazie.